Ragazzi buongiorno a tutti bentornati su Crypto Salad io sono Federico oggi 11 agosto 2022 Bitcoin 24.400 dollari ragazzi guardiamo insieme l'andamento della giornata di oggi c'è qualcosa che voglio portare alla vostra attenzione le possibilità di un ritracciamento perlomeno nel breve termine da parte di Bitcoin quali sono alcuni segnali che potrebbero anticipare questo ritracciamento. Ragazzi guardiamo il mensile perché siamo ormai alla metà di agosto ieri abbiamo guardato il settimanale ragazzi guardiamo il DXY sappiamo che il dollaro si muove in controtendenza rispetto a Bitcoin vediamo come è messo il grafico del dollaro quindi come al solito se vi sembra interessante lasciate un mi piace iscrivetevi al canale cliccate la campanella per le notifiche lasciate i vostri messaggi. Ragazzi quello che vedete qui sul grafico è il Bitcoin sul time frame dei 15 minuti quindi un grafico che può essere utile se fate dei trading quindi operazioni che si aprono e chiudono all'interno della stessa giornata. Ragazzi siamo al di sopra in questo momento del CPR quindi al di sopra del supporto giornaliero che è un supporto che è ascendente rispetto al giorno precedente e abbiamo già raggiunto il target R1 della giornata di oggi in zona 24.500 dollari. Quindi può essere benissimo che Bitcoin continui la sua ascesa verso i prossimi target della giornata in particolare il prossimo 25.200 dollari. C'è una cosa in particolare su cui però voglio soffermarmi è il fatto che il prezzo come vedete ha iniziato la giornata questi livelli cambiano ogni 24 ore senza toccare il CPR. Quindi non ha toccato nessuna delle tre linee del nostro punto di supporto e solitamente quello che accade quando il prezzo lascia un CPR cosiddetto vergine è che ritorna a testare lo stesso livello. Quindi lo potete vedere questo non succede sempre ma nella maggior parte dei casi lo potete vedere anche nella giornata di ieri Bitcoin inizia la giornata sotto il CPR non lo tocca e poi durante la giornata torna a trapassarlo addirittura con la volatilità della giornata di ieri. Quindi potremmo aspettarci tra oggi eventualmente i prossimi giorni un ritorno del prezzo almeno a questi livelli. La parte più bassa sono 23.370 dollari funzionano un po' come i gap del CME. Inoltre ragazzi guardiamo sulle 4 ore ci sono alcuni time frame più veloci che si stanno un po' esaurendo. Quando Bitcoin è ormai qualche giorno che continua a registrare performance positive abbiamo una divergenza anche sulle 4 ore. Se guardiamo l'RSI c'è massimo massimo con IRI mentre abbiamo l'RSI che sembra voglia formare una divergenza ribassista sulle 4 ore. Quindi ci sono un po' di segnali che probabilmente aprire un long a questi livelli potrebbe essere rischioso. Intanto ragazzi se volete fare trading non avete ancora un account su Bybit guardate in descrizione trovate un referral link se volete sostenere anche il canale. Inoltre ragazzi guardiamo il mensile. Ieri abbiamo guardato settimanale abbiamo visto che Bitcoin è sopra le 200 settimane non è arrivato a toccare le 300 settimane. Alcune notizie positive sul mensile è che Bitcoin ha riconquistato la media dei 50 mesi che è una media mobile molto vicina a quelle delle 200 settimane che è stata toccata nei precedenti bottom e anche questa volta l'abbiamo toccata e siamo rimbalzati al di sopra. L'apertura mensile del mese di agosto è avvenuta al di sopra della media dei 50 mesi quindi è importante vedere il continuo supporto e non resistenza di questa media mobile. Inoltre voglio farvi notare che il stoccastica Ressai inizia a vedere è ancora molto debole e siamo ancora nella zona assolutamente bearish quindi siamo sotto il livello dei 20. Inoltre iniziamo a vedere un debole incrocio tra le due medie mobili quindi sul lungo termine qualcosa di positivo ovviamente vogliamo vedere la conferma con l'uscita dalla zona bearish e l'inizio di una nuova e prolungata fase rialzista però ovviamente l'incrocio di queste due medie mobili è l'inizio per assistere a un effettivo cambio di direzione nel lungo termine. Poi ragazzi guardiamo invece il DXY notizie positive per bitcoin perché ieri osservavamo un incrocio rialzista cambio bitcoin contro dollaro sul MACD settimanale invece qua assistiamo al contrario ad un incrocio ribassista del MACD settimanale quindi vi ricordo che il dollaro si comporta in contraposizione con bitcoin quindi può essere che se il dollaro desce scendere bitcoin sale e viceversa. Inoltre stiamo assistendo alla potenziale iniziale violazione della parabola rialzista del dollaro logicamente non sono movimenti che questo è il time frame settimanale quindi può essere benissimo che ci siano dei rimbalzi rialzisti a favore del dollaro ma comunque il trend potrebbe essere iniziato a cambiare. Il dollaro potrebbe ritornare un po' al suo posto se paragonato ad altre valute estere e quindi anche a bitcoin. Quindi ragazzi per oggi è tutto fatemi sapere cosa ne pensate grazie per la vostra attenzione noi ci vediamo al prossimo episodio ciao.